Lecce è città universitaria che però non sa più accogliere i suoi studenti. Sebbene infatti la città barocca non sia Milano o Bologna, gli affitti per appartamenti o semplici stanze non solo si attestano su livelli medio-alti, ma continuano a crescere. Una situazione che sta mettendo in serie difficoltà i tanti studenti non residenti che scelgono l'Ateno Leccese. Come sottolinea Maragrazia Coccioli, consigliere di amministrazione ad ISU della sede di Lecce, le istituzioni devono intervenire per un problema che sta diventando troppo preoccupante per non essere affrontato con la giusta attenzione. Nella provincia di Lecce il prezzo medio di un affitto si aggira intorno agli 8 euro al mese al metro quadro, chiaramente in aumento rispetto alla scorsa estate. Quindi alle porte del nuovo anno accademico si prospettano nuovi riancari per gli affitti universitari. Per noi è fondamentale che la ISU accelgiera il percorso di ampliamento della copertura dei posti letto in residenza, garantendo a tutti i richiedenti il servizio residenziale. Sicuramente serve un piano integrato di interventi tra le varie istituzioni del territorio volto a contenere la speculazione sugli affitti attraverso interventi pubblici sull'abitare. Questo per noi significa realizzare una vera città universitaria, accessibile a tutti e tutte e in grado di assicurare un futuro ai propri abitanti e uno sviluppo al proprio territorio. Serve una chiara programmazione sia per la costruzione di alloggi pubblici che nuovi e più forti interventi legislativi e normativi sulla questione degli affitti.